Sicuramente l'autonomia non è altissima, quindi questa risponde anche all'altra domanda che probabilmente non lo so, poi deciderà il mister, non ne abbiamo ancora parlato. Io mi sto soltanto allenando perché dopo quasi cinque mesi dall'operazione e più di cinque mesi dall'infortunio è normale che un giocatore debba ritrovare ritmo e distanze. Mi sto allenando, non ho avuto intoppi, ogni tanto ho qualche fastidio, ma come è normale che sia. Però nel complesso sono soddisfatto di tutto quello che è stato fatto. Ringrazio ancora una volta il Presidente per avermi dato l'opportunità di operarmi dal migliore al mondo per questi tipi di infortuni, ringrazio tutto lo staff, faccio solo alcuni nomi perché hanno vissuto molto con me, Zovini e Gianluca Capogna che mi hanno assistito giornalmente. Adesso sono felice di almeno rientrare a far parte del gruppo. Noi dobbiamo pensare alla partita con la Samp, diciamo che le interviste così vengono fatte. La verità, dobbiamo pensare alla partita con la Samp perché noi dobbiamo fare tutto ciò che è nel nostro massimo dentro il campo. Tutto il resto non ci interessa. Noi dobbiamo avere bene in mente quella che è la nostra dimensione e quello che è il nostro campionato. Innanzitutto dobbiamo ripartire da quella partita, la finale play-off dove tutto lo stadio ci ha incitato perché voleva il risultato e abbiamo vinto tutti insieme. Dobbiamo portare una grande positività perché perderemo diverse partite. I numeri lo dicono, le squadre che si salvano perdono 18-20 partite, più o meno. Capiterà, ma lo dobbiamo fare sempre con la tranquillità, la serenità, l'entusiasmo e la consapevolezza di chi deve salvarsi, come detto bene, a maggio. Non si deve salvare né a dicembre né a fine settembre, deve tirare le somme su quello che è il suo campionato.